Un consiglio alla città per invitare coloro i quali si recano in ospedale ad utilizzare i mezzi pubblici al posto delle auto. Questo è il messaggio dell'assessore alla vivibilità e viabilità Giuseppe Tuminelli. Registrato infatti negli ultimi giorni un incremento di traffico in via Luigi Russo, soprattutto negli orari di visita, dopo l'apertura dei lavori per il parcheggio multipiano davanti l'ingresso dell'ospedale Sant'Elia. Intanto sono due le linee urbane che permettono di raggiungere il presidio ospedaliero e per l'esattezza la linea 4 e la linea 6, con una frequenza di un autobus ogni 20 minuti circa. Il suggerimento sarebbe quello di lasciare la propria auto in altre aree della città, piuttosto che nei dintorni dell'ospedale. Proprio perché lungo i percorsi delle linee degli autobus e le varie fermate danno la possibilità di sostare le auto in alcuni punti della città come via Roccis, via Medaglie d'Oro, via Guastaferro, via Le Luigi Monaco, via Gaetano Costa, via Concetto Marchese. Noi pochi mesi fa abbiamo implementato il servizio di trasporto pubblico locale, come? Aumentando con ben due linee urbane, che sono la numero 4 e la numero 6, i percorsi che arrivano all'ospedale Sant'Elia, ma anche al Dubbini. Abbiamo aumentato la frequenza degli autobus e quindi, avendo degli orari sfalsati le due linee di percorrenza, possiamo dire che c'è un autobus ogni 20 minuti da e per la zona alta di via Le Luigi Monaco, che serve la struttura ospedaliera del Sant'Elia, del CEF Pass e del Dubbini. Pertanto, in questi giorni, dove c'è un problema su via Luigi Russo, perché tutti gli automobilisti, che per qualsiasi motivo, per qualsiasi ragione, devono recarsi all'ospedale Sant'Elia, parcheggiano ai lati della carreggiata della stessa via. Pertanto, si limita fortemente la percorribilità di questo tratto di strada, con conseguenze anche nei confronti dei residenti della zona. Per questo motivo, invitiamo tutti quanti i cittadini a poter utilizzare il trasporto pubblico locale, così come è stato implementato ed è stato potenziato, utilizzando anche delle aree e dei parcheggi di interscambio. Questo è un invito, diciamo, che viene fatto in questo periodo, in questo momento di emergenza, però potrebbe stimolare magari ad utilizzare sempre più i mezzi pubblici e quindi diminuire l'utilizzo delle auto? Assolutamente sì. Questo è un suggerimento che noi stiamo dando ai cittadini per cercare di limitare quanto più possibile il traffico in quella zona e in questo periodo in cui verrà realizzato il parcheggio multipiano nella zona antistante dell'entrata principale dell'ospedale. Ma in ogni caso, proprio perché anche l'amministrazione ha investito sul potenziamento del trasporto pubblico locale, invitiamo quindi i cittadini a poter utilizzare le corse urbane per potersi spostare più agevolmente nel comune di Caltanissetta. Grazie. Grazie.